Siamo pronti tutti per la partenza di apri pista, siamo dieci, tutti giovani, neanche 30 anni. Dicevi dell'Abruzzo. Salute Passano. Passano. Vedo tutti belli stanchi, l'impressione. Tutti stanchi. Bella, bellissima. Bella, bellissima. Ciao, qui sono invitato a voi, è stata abbastanza impegnativa, comunque con l'aiuto del nostro staff abbiamo trovato la strada e finalmente un attimo di riposo. Buon ristoro, grazie mille. Bellissima. Loro sono quelli che non regolano l'acqua. Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille, 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 gra Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.